È mezzanotte. Prima dell'alba mi troveranno e mi porteranno in una cella nera dove languirò per sempre, mentre brame insaziabili mi tortureranno le vene e inadridiranno il mio cuore. Allora diventerò una cosa sola con i morti che amo. Il mio scranno è fetido, incavo in un'antica tomba, la mia scrivania, il dorso di una pietra sepolcrale levigata dalla devastazione dei secoli. Il mio unico lume sono le stelle e un esile spicchio di luna, ma vedo chiaramente come se fosse mezzogiorno. Intorno a me, su ogni lato, statue sepolcrali vigilano su tombe dimenticate e le lapi decadenti e decrepite sono in parte occultate da viluppi disgustosi di vegetazione putrescente. Su tutto, profilato contro il cielo livido, un augusto monumento innalza la sua guglia severa e rastremata, spettrale condottiero di un'orda di lemuri. L'aria è greve di velenose esalazioni di funghi e dell'umido sentore di terra muffita, ma per me è un aroma paradisiaco. Immota, spaventosamente immota, la terra è gravata da un silenzio, nel cui profondità presagisce il definitivo, abominevole. Potessi scegliere, la mia dimora sarebbe il centro di una simile città di carne decomposta ed ossa marcite, perché la loro vicinanza comunica al mio spirito brividi di piacere, fa scorrere il sangue stagnante nelle vene e batte d'ebbrezza frenetica il mio torpido cuore. La presenza della morte per me è vita. La mia prima infanzia si è svolta l'insegna di una lunga, prosaica, monotona apatia, rigorosamente ascetico, diafano, pallido, soggetto a prolungate crisi di morbosa ipocondria. Ero sfuggito dai bambini sani e normali della mia età. Mi avevano soprannominato il Guastafeste e la vecchietta, perché non provavo alcun interesse per i loro rudi giochi infantili. Ma anche se avessi desiderato parteciparvi, non avrei avuto la forza di farlo. Come tutti i villaggi di campagna, Fenham aveva la sua percentuale di malelingue velenose. Alla loro mentalità impicciona il mio temperamento ipocondriaco appariva una devianza abnorme. Mi paragonavano ai miei genitori e scuotevano la testa, in preda a dubbi inquietanti di fronte alla mia abissale diversità. I più superstiziosi sostenevano apertamente che dovevo essere stato scambiato nella culla, mentre altri che sapevano qualcosa della mia stirpe richiamavano l'attenzione su certe misteriose e indefinite voci sul conto ad un mio trisavolo, uno zio che era stato bruciato sul rogo come necromante. Avessi abitato in una città più grande, con maggiori opportunità di frequentare compagnie a me affini, forse avrei vinto quella precoce tendenza a vivere da recluso. Adolescente mi fece ancora più chiuso, morboso e apatico. Alla mia vita mancava uno scopo. Era come se fossi stretto in una morsa che mi ottundeva i sensi, ritardava il mio sviluppo e la mia attività, lasciandomi inesplicabilmente insoddisfatto. A 16 anni partecipai al primo funerale. A Fenham era un evento quasi mondano, perché la nostra cittadina era famosa per la longevità degli abitanti. Trattandosi per di più del funerale di un personaggio in vista come il nonno, non si poteva sbagliare, prevedendo una follata partecipazione di tutta la comunità, che avrebbe reso il dovuto omaggio alla sua memoria. Eppure consideravo le esequie imminenti senza il minimo interesse. Qualsiasi cosa tendesse a strapparmi all'inerzia abituale, per me era senz'altro causa di disagio fisico e mentale, per dispetto verso le insistenze dei miei genitori, ma in sostanza per sfuggire alle rampogne nei confronti di ciò che definivano il mio atteggiamento a poco filiale, decisi di accompagnarli. Non ci fu nulla di straordinario nel funerale del nonno, salvo forse l'abbondanza di omaggi floreali, ma fu quella, ricordatelo, la mia iniziazione ai riti solenni del trapasso. Qualcosa che alleggiava nella semioscurità della camera ardente, la bara con i suoi neri drappeggi, le corone di fiori profumati, le manifestazioni di dolore dei compaesani, mi scossero dall'indifferenza di sempre e ridestarono la mia attenzione. Strappato a quella fugace reverì da un colpetto del gomito spigoloso di mia madre, la seguì nella camera ardente fino alla bara dove giaceva il cadavere del nonno. Era la prima volta che mi trovavo faccia a faccia con la morte, abbassai gli occhi sul volto placido e sereno solcato da una quantità di rughe e non vedi nulla che significasse tanta costernazione. Mi sembrò anzi che il nonno fosse indefinitamente contento, quietamente appagato. Mi sentì di non dare una bizzarra sensazione ed esultanza, del tutto fuori posto, si era insinuata nel mio animo con tanta lentezza e circospezione e in un primo tempo neanche me ne ero accorto. Quando ripenso a quell'ora portentosa, mi sembra che fosse originata dal primo colpo d'occhio della scena del funerale e che avesse silenziosamente rafforzato la sua stretta in modo sottile e insidioso. Una sinistra e maligna influenza che pareva emanare dal cadavere mi teneva prigioniero di un fascino magnetico. Era come se una forza statica, elettrica, pervadesse tutto il mio essere e sentì il mio corpo drizzarsi senza un atto deliberato della volontà. Con sguardo aderente cercavo di penetrare dietro le palpebre del morto e di leggere lo scuro messaggio che nascondevano. All'improvviso il cuore aumentò i battiti, colmo d'un'empia gioia e martellò le costole con forza demoniaca per liberarsi dalla soffocante prigione del mio gracile corpo. Una sensualità sfrenata, irrefrenabile, appagante mi travolse, ancora una volta un energico colpo di gomito di mia madre mi riscosse dai miei pensieri. Verrò costato alla bara drappeggiata di nero con passi di piombo. Me ne allontanai in preda una nuova eccitazione. Seguì il corteo funebre al cimitero, ma tutto il mio essere era permeato dalla misteriosa influenza rivitalizzante. Era come se avesse ingollato lunghe sorsate di elisir esotico, un filtro abominevole preparato con le formule blasfeme degli archivi di Belial. I miei concittadini erano tanto presi dalla cerimonia che il radicale cambiamento del mio contegno non fu notato da nessuno, salvo che da mio padre e mia madre, ma nelle due settimane che seguirono il mio atteggiamento fornì alle male lingue del paese nuovi argomenti di pettegolezzo velenoso. In capo a 15 giorni tuttavia la forza dello stimolo cominciò a perdere efficacia. Dopo altri due giorni ero nuovamente in preda all'antica apatia, anche se non della totale e paralizzante ipocondria del passato. Prima non provavo alcun impulso a uscire dal mio torbido languore, adesso ero tormentato da un'oscura e indefinibile inquietudine. In apparenza ero tornato quello di sempre e gli amanti di scandali dovettero rivolgere la propria attenzione ad argomenti più eccitanti. Avessero lontanamente sospettato la causa della mia euforia, ne avrebbero sfuggito come un lebroso. D'altra parte se avessi immaginato quale fosse il potere abominevole che aveva scatenato il breve periodo di esaltazione, mi sarei ritirato per sempre dal mondo e avrei trascorso gli anni che mi rimanevano in penitente solitudine. La tragedia è spesso composta di trilogie e a dispetto della proverbiale longevità degli abitanti del paese, nei cinque anni che seguirono perdetti tutti e due i miei genitori. Mia madre se ne andò, per prima, in un incidente improvviso. Il mio dolore fu tanto sincero che mi stupì scoprirlo abbeffato e contraddetto dal sentimento di suprema e diabolica estasi che avevo quasi dimenticato. Una volta di più il cuore mi balzò selvaggiamente in petto, martellando freneticamente e pompando sangue ardente a velocità fulminea. Mi scosse dalle spalle la cappa d'apatia solo per sostituirla con il fardello infinitamente più orribile di un desiderio impio e abominevole. Mi installai nella camera ardente dove giaceva il cadavere di mia madre, l'anima assetata di nettere infernale che saturava l'aria della stanza in penombra. Ogni respiro mi dava più forza, innalzandomi ad altezze incredibili di piacere e soddisfazione. Ormai sapevo che era una sorta di delirio che sarebbe presto terminato e che mi avrebbe lasciato tanto indebolito quanto era stato violento il suo perverso potere. Eppure non potevo dominare il desiderio più di quanto fosse in grado di sciogliere i nodi del mio complesso destino. Avevo capito che in seguito a una maledizione vera e propria la mia vita traeva la sua forza dalla morte e che nella mia natura esisteva un carattere che reagiva soltanto alla tremenda presenza dell'argilla esanime di un cadavere. Qualche giorno dopo, folle di desiderio del tossico bestiale da cui dipendeva la pienezza della mia esistenza, mi incontrai con l'unico impresario di pompe funebri di Fenham e lo convinsi ad assumermi come apprendista. Il colpo della morte di mia madre aveva visibilmente scosso mio padre. Credo che se avessi accennato in qualunque altro momento un lavoro così otro, egli mi avrebbe apposto un rifiuto categorico. Invece dia del suo benestare con un cenno dopo un istante di riflessione. Non avrei mai potuto immaginare che sarebbe stato lui l'oggetto della mia prima lezione pratica. Mori imprevvisamente in seguito a una malattia di cuore fino allora insospettata. Il mio principale, un ottogenario, fece del suo meglio per dissuadermi dall'inamissibile compito di imbalsamare il corpo e non si accorse della luce entusiastica dei miei occhi quando finalmente lo convinzi. Non tento neppure di esprimere i pensieri indicibili, riprovevoli, che tumultuavano nel mio cuore frenetico, in onde di passione, mentre lavoravo su quella spenta argilla. Un amore insuperabile, un amore più grande, infinitamente più grande di quello che gli avevo portato in vita, fu la nota dominante dei miei pensieri. Mio padre non era ricco, ma aveva posseduto beni sufficienti a renderlo agiato e indipendente. In quanto suo unico erede venne a trovarmi in una posizione piuttosto paradossale. La mia prima giovinezza mi aveva reso totalmente inadatto al contatto con il mondo moderno. Eppure la vita rozza di Fenham e il suo isolamento mi nauseavano. Inoltre la longevità dei suoi abitanti frustrava l'unica ragione che mi aveva indotto a trovare quel lavoro. Dopo aver sistemato le questioni riguardanti l'eredità, mi licenzai senza problemi e raggiunsi Baiboro, città distante un'ottantina di chilometri. Il mio anno di apprendistato tornò utile e fu facile trovare un posto d'assistente nella Gresham Corporation, la più grossa azienda di pompe funebri della città. Riuscì addirittura a farmi concedere il permesso di dormire in ditta, perché la vicinanza dei morti stava ormai diventando un'ossessione. Mi applicai al nuovo lavoro con un raro zelo. Nessun caso risultava troppo macabro per la mia sensibilità macchiata e ben presto divenne un maestro nella mia eletta professione. Ogni cadavere portato in laboratorio significava il realizzarsi di una promessa di macabra letizia, di blasfema gratificazione o riaccendersi di quell'estatico tumulto delle vene che trasformava il mio sinistro compito in un'opera di passione e devozione. Ma ogni soddisfazione ha un suo prezzo. Temevo i giorni in cui non mi portavano cadaveri da contemplare avidamente. Pregavo gli osceni dei dell'abisso perché donassero morte rapida e certa agli abitanti della città. Poi vennero le notti in cui una figura furtiva prese a circolare di soppiatto nelle strade oscure di periferia. Notti di buio in cui la luna era coperta da nubi grevi e basse. Era un individuo molto cauto che si nascondeva fra gli alberi dandosi fuggevoli occhiate alle spalle. Una figura intenta ad attività malvagie. Dopo ognuno di questi vagabondaggi in cerca di preda, i giornali del mattino rovesciavano sul pubblico, avido di sensazioni, i particolari di un delitto da incubo. Colonne su colonne di spaventose e compiaciute rivelazioni di abominevoli atrocità. Paragrafi su paragrafi di soluzioni impossibili e di cervellotici e contradditori sospetti. Tutto ciò mi comunicava una suprema sensazione di sicurezza. Perché chi mai avrebbe sospettato che il dipendente di un'impresa di pompe funebri, dove si presume che la morte sia cosa di tutti i giorni, potesse cercare l'appagamento di impulsi innominabili nel massacro a sangue freddo dei propri simili? Premeditai ogni delitto con abilità maniacale, variando nell'esecuzione in modo che nessuno sospettasse che erano opera delle stesse mani macchiate di sangue. Il culmine delle mie avventure notturne era un'ora estatica di piacere pure perverso, un piacere accresciuto dalla possibilità che la sua fonte deliziosa venisse in seguito affidata alle mie cure professionali. A volte quel duplice e supremo piacere si realizzava. Oh raro e squisito ricordo! Nelle lunghe notti trascorse al riparo del mio santuario, il silenzio degno di un mausoleo mi spingeva a scogitare nuovi e indicibili modi di prodigare il mio affetto sui morti che amavo, i morti che mi davano la vita. Una mattina il signor Gresham arrivò in ufficio molto prima del solito. Mi trovò striato su un freddo tavolo mortuario, immerso in un sonno profondo da iena e abbracciato al corpo freddo, rigido e nudo ad un cadavere. Mi svegliò da sogni lascivi, negli occhi un'espressione fremmista a disprezzo e pietà. Gentilmente ma con fermezza mi disse che dovevo andarmene, che avevo i nervi scossi, che mi occorreva un lungo periodo di riposo lontano dai doveri repellenti richiesti alla mia professione e che la mia impressionabile giovinezza era troppo turbata dalla macabra atmosfera che mi circondava. Quanto poco sapeva dei desideri diabolici che mi spingevano ad abbandonarmi alle mie disgustose debolezze. Fui abbastanza saggio da capire che se mi fossi messo a discutere avrei soltanto rafforzato la sua convinzione che stavo diventando pazzo. Meglio andarsene che facilitare la scoperta del movente delle mie azioni. Dopo l'episodio di Baiboro non osai più fermarmi a lungo in un sol posto per timore che un'azione imprudente rivelasse il mio segreto a un mondo che non avrebbe capito. Così mi spostai di città in città, di villaggio in villaggio. Lavoravo alla morgue, nei cimiteri, una volta persino in un crematorio, dovunque avessi la possibilità di essere vicino ai morti che desideravo ardentemente. Poi scoppiò la grande guerra. Fui uno dei primi a vercare l'oceano, uno degli ultimi a ritornare. Quattro anni di macello infernale, rosso sangue, il fango putrido delle trincee battute dalla pioggia, le esplosioni assordanti di granate isteriche, il monotono ronzio di pallottole beffarde, frenesie assurde scaturite dalle fonti del plegetonte, isolazioni soffocanti di gas assassini, resti grotteschi di corpi straziati e crivellati. Quattro anni di piacere sublime. In ogni vagabondo c'è un desiderio latente di tornare nei luoghi della sua fanciullezza. Qualche mese dopo passeggiavo lungo le strade familiari di Fenham. Fattorie in rovina fiancheggiavano i noti sentieri e gli anni avevano fatto regredire il villaggio. Rare case erano abitate e tra queste quelle in cui avevo vissuto un tempo. Il viale soffocato da viluppi d'erbacce, i vetri rotti delle finestre, i campi incolti dietro la casa costituivano una muta conferma delle voci che avevo raccolto nelle mie discrete ricerche, e cioè che vi abitava un ubriacone dissoluto, un individuo che conduceva una grama esistenza, tirando avanti con piccoli lavori, offertigli dai vicini per pietà della moglie, maltrattata e del figlioletto denutrito che vivevano con lui. In tutto e per tutto l'incanto dei luoghi della mia giovinezza era dileguato, così, spinto da un impulso sconsiderato, volsi i miei passi in direzione di Baiboro. Anche laggiù gli anni avevano portato cambiamenti, ma di ordine opposto. La piccola cittadina dei miei ricordi era quasi raddoppiata in grandezza a dispetto dello spopolamento dovuto alla guerra. Istintivamente cercai il posto dove avevo svolto il mio lavoro e scopri che esisteva ancora, sebbene sotto una ragione sociale sconosciuta. La tarca sopra la porta attestava successore di... perché l'epidemia di spagnola aveva reclamato il signor Grisham mentre i figli combattevano oltreoceano. Un impulso fatale mi spinsi a chiedere lavoro. Accennai al mio apprendistato sotto il signor Grisham con qualche trepidazione, ma le mie paure erano infondate. Il mio ex principale aveva portato nella tomba il segreto della mia immorale condotta. Per fortuna c'era un posto libero e fui assunto immediatamente. Poi tornarono i ricordi ossessivi delle notti rosse, le notti dell'empiacaccia e la brama controllabile di rinnovare quelle illecite delizie. Zettata alle ortiche ogni prudenza, mi abbandonai a una nuova serie di orride dissolutezze. Una volta in più, la stampa scandalistica trovò pane per i suoi denti nei mostruosi particolari dei miei crimini, paragonando alle settimane d'orrore. che avevano terrorizzato la città anni prima. Una volta di più, la polizia effettuò le sue retate senza approdare a nulla. La sete del nettare dei morti divenne un fuoco devastante. Ridussi gli intervalli delle mie abominevoli imprese. Mi rendevo conto di muovermi su un terreno pericoloso, ma il desiderio mi imprigionava nei suoi tentacoli, costringendomi a continuare. La mia mente diventava sempre più indifferente a qualsiasi interesse che non fosse l'appagamento dei miei terribili desideri. Mi sfuggivano dettagli di importanza capitale per chi si dedicasse a imprese rischiose come la mia. In qualche modo, da qualche parte, lasciai una traccia, un indizio elusivo, non tale da garantire il mio arresto, ma sufficiente a indirizzare i sospetti verso di me. Mi sentivo pedinato, ma ero incapace di riprimere il crescente bisogno di morti per rianimare la mia anima sfibrata. Poi venne la notte in cui le sirene della polizia mi scossero dalla diabolica e terribile gioia che provavo davanti al corpo della mia ultima vittima. Il rasoio insanguinato era ancora stretto nella mano. Con gesto esperto lo richiusi, infilandole in una tasca della giacca. I manganelli dei poliziotti picchiavano contro la porta. Sfondai la finestra con una sedia, ringraziando il fatto di aver scelto uno dei soborghi più poveri per la mia impresa, dove non si usavano inferriate. Saltai in un vicolo buio, proprio nel momento in cui le figure vestite di blu irrompevano attraverso la porta sfondata. Fuggii oltre, passando staccionate cadenti, sudici cortili, tuguri faticenti, viuzze fiocamente illuminate. Pensai alle macchie di vegetazione paludosa che si stendevano oltre la città, per un'ottantina di chilometri, quasi fino a Fenham. Se le avessi raggiunte sarei stato salvo, almeno per un po'. Prima dell'alba attraversai a precipizio quella distesa malaugurante e desolata, incespicando sulle radici marcite di alberi agonizzanti, i cui rami si protendevano come braccia grottesche e tentavano di ostacolarmi beffardamente. I demoni o gli dèi esecrabili cui rivolgevo preghiere idolatre guidarono i miei passi nell'acquitrino minaccioso. Una settimana più tardi, debole, lacero e demaciato, mi aggiravo nei boschi a un paio di chilometri da Fenham. Fino ad allora avevo eluso le ricerche dei miei inseguitori, ma non osavo farmi vedere perché sapevo che doveva essere stato dato l'allarme in tutta la zona. Speravo di averli messi fuori strada. Dopo quella prima notte frenetica non avevo più sentito il suono di voci estranei né il pesante incedere di passi fra i cespugli. Forse si erano convinti che il mio cadavere giacesse in qualche polla stagnante o forse scomparso per sempre fra le sabbie mobili. La fame mi mordeva lo stomaco con spasmi dolorosi, la sete mi aveva seccato la gola, ma ancor peggio era l'insopportabile desiderio della mia anima che si struggeva per l'appagamento che trovavo soltanto vicino ai morti. Le mie narici fremevano al dolce ricordo. Non potevo più illudermi che il desiderio fosse il semplice capriccio dettato da una fantasia morbosa. Ormai sapevo che era parte integrante della mia vita e che senza di esso mi sarei spento come una lampada prosciugata. Chiamai raccolta le energie che mi restavano per soddisfare il dannato appetito. Nonostante il pericolo che incombeva su ogni mia mossa mi spinsi in ricognizione tenendomi al riparo delle ombre protettrici come un fantasma. Ancora una volta provavo la strana sensazione di venire guidato da un invisibile accolito di satana. Eppure persino la mia anima di peccatore si ribellò quando mi ritrovai davanti alla casa della mia infanzia, lo sfondo del mio giovanile remitaggio. Poi i ricordi inquietanti si dileguarono, sostituiti da un desiderio imperioso e travolgente. Dietro le pareti cadenti della vecchia casa c'era la mia preda. In un attimo aprì una delle finestre chiuse e scavalcai il davanzale. Tesi l'orecchio, i sensi allerta, i muscoli pronti all'azione. Il silenzio mi rassicurò. Leggero come un gatto strisciai nelle stanze familiari finché un sonoro russare mi indicò il luogo dove avrei trovato sollievo alle mie sofferenze. Mi concessi un sospiro d'estasi anticipata e aprì la porta della camera da letto. Come una pantera mi avvicinai alla figura supina distesa scompostamente in un sonno da ubriaco. La moglie e il figlio dove erano? Beh, potevano aspettare. Le mie dita frenetiche artigliarono la gola della prima vittima. Ore dopo ero di nuovo un fuggitivo, ma l'energia rubata alla morte mi scorreva nelle vene. Tre figure silenziose dormivano un sonno da cui non ci sarebbe mai stato risveglio. Solo quando la luce abbagliante del giorno penetrò nel mio nascondiglio. Mi resi conto delle conseguenze sicure che avrebbe scatenato il sollievo ottenuto in modo tanto imprudente. Dovevano avere già trovato i cadaveri. Anche il più ottuso dei poliziotti di campagna avrebbe collegato il fatto di sangue alla mia recente fuga dalla città vicina. Inoltre per la prima volta ero stato tanto sbadato da lasciare prove tangibili della mia identità. Le impronte digitali sulle gole delle mie ultime vittime. Trascorsi la giornata rabbrivedendo d'angoscia, il semplice rumore di un ramocello spezzato sotto i miei piedi suscitava spaventose immagini mentali. Quella notte protetto dall'oscurità costeggiai fenam diretto verso i boschi che si stendevano più oltre. Prima dell'alba ebbi la prova certa che l'inseguimento era ripreso. Il lontano latrare dei segugi. Nella lunga notte che seguì continuai la mia fuga, ma il mattino dopo sentì che la mia energia artificiale stava scemando. Nel pomeriggio avvertì di nuovo l'insistente richiamo della maledizione e seppi che se non avessi gustato il dolce veleno che trovavo soltanto vicino ai defunti non ce l'avrei mai fatta. Avevo percorso un largo semicerchio se mi fossi spinto ancora avanti. Mezzanotte mi avrebbe sorpreso nel cimitero dove avevo sepolto i miei genitori anni prima. La mia sola speranza, ne ero certo, consisteva nel riuscire a raggiungere quella meta prima che mi prendessero. Rivolsi una muta preghiera ai demoni che presiedevano il mio destino e mi diressi con passo di piombo verso la mia ultima roccaforte. Dio, è possibile che siano passate soltanto dodici ore da quando mi sono messo in cammino per il mio lugubre rifugio? Ho vissuto un'eternità per ognuna di queste ore plumbe, ma ho ottenuto una ricca ricompensa. Gli effluvi tossici di questo angolo dimenticato sono incenso per la mia anima sofferente. Le prime luci dell'alba ingrigiscono l'orizzonte. Stanno arrivando. Il mio fine udito coglie da lontano l'ululare dei segugi. Questione di minuti e li avrò addosso. Poi mi rinchiuderanno per sempre, lontano dal resto del mondo, perché trascorre i miei giorni in preda brame devastanti fino a quando finalmente mi unirò i morti che amo. No, non mi avranno. Mi resta una via di scampo. Forse è una scelta da codardo, ma migliore, di gran lunga migliore, di interminabili mesi di sofferenza. Lascio queste annotazioni perché qualche anima affine forse comprenda le ragioni della mia scelta. Il rasoio è rimasto al sicuro nella mia tasca da quando sono fuggito da Baiboro. La lama sporca di sangue luccica stranamente nella debole luce dello spicchio di luna. Un colpo deciso al polso sinistro e la mia liberazione assicurata. Il sangue caldo, appena spillato, disegna arabeschi bizzarri sulle lapidi sbiadite decadenti. Orde di fantasmi brulicano sulle sepolture putrescenti. Dita spettrali mi fanno cenno di seguirle. Frammenti di melodie maescritte si innalzano in un crescendo celestiale. Stelle remote danzano ebre al suono del demoniaco accompagnamento. Mille minuscoli martelli colpiscono, con dissonanza abominevole, le incudini del mio cervello caotico. Grigie ombre di spiriti massacrati trascorrono in silenzio il beffardo corteo davanti a me. Lingue ardenti di fiamma invisibile lasciano l'infuocato sigillo dell'inferno sulla mia anima stanca. Non posso più scrivere.